Un po' di tempo a questa parte, nel sistema scolastico sono state introdotte le schede. Queste schede sono state introdotte anche nella scuola primaria e sono perlopiù schede da colorare. Molto spesso, purtroppo, queste schede vengono date come momento ludico creativo di espansione della creatività. Viene date ai bambini un disegno da colorare. Bene, questo è un uso improprio della scheda. La scheda deve essere un momento in cui fissare un'acquisizione raggiunta. Cosa voglio dire? Quando si danno le schede da colorare a un bambino, si devono dare dopo che lui ha fatto la sua esperienza individuale per fissare le competenze acquisite. Quindi, mai dare la scheda subito, spiego la farfalla, do la scheda della farfalla. Ma, spiego la farfalla, disegniamo tante farfalle liberamente e solo alla fine do la scheda per fissare i punti salienti dell'argomento.